Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Mortal Kombat Non respiro più Comunque stavo dicendo E da un bel pezzo troppo Da un bel Non riesco a formulare una frase di senso compiuto O almeno non più Comunque stavo dicendo Ed è troppo tempo che non porto più Mortal Kombat La storia Perché Boh Boh fate voi Decidete una ipotesi E fatevela valere Comunque Si chiama Sub Zero Quindi probabilmente Sarà incentrato su di lui questo capitolo E spero che non dovremo andare In un reparto fuso gelati A ammazzare la gente Spero solo questo Eh, se no chiudo già il gioco Io l'ho già fatto ma non voglio spoilervi niente Eh, se non sbaglio dovevamo Cos'era? Le forze speciali devono andare a controllarlo Perché non risponde a le chiamate Eh, vabbè Sarà telefono scarico Boh, ora qua lo vedete L'ho dal sole L'ho dal sole Ci sei quasi Ci sei quasi Alza le braccia No, non l'ho dal sole E qua cos'è? Linguaggio muto Mi sembra tipo Io la prima volta D'Uncharted Ok, facciamo piano Silenziosi No, bavanculo Prendo il mitra Sparo tutti Stessa identica cosa L'unico problema è Qua quai Mentre non ce li ha Ok Sì, ok Questa volta però Gli hanno incurati Ammetti No Tutta colpa del Come si chiama? Quella là con la coroncina La frocia con le frecce Quello Eh, se non sbaglio Si chiamava Kung Jin Giusto Giusto Tutti i nomi giapponesi Vuole parlare Parlare È sempre la sua prima scelta Non parlo più Passo le parole Stavo leggendo ai Stavo leggendo i dialoghi Ed ecco come si risolve Sti qua hanno le catane Ma no, dai Facciamo una scazzottata Dai Dai, scazzottata Boia Guidi questo gruppo Guidi questo gruppo Ma loro non ti seguono Mi ricorda Mi ricorda Il sacco di Roma del 1500 Beh, non paghiamo i mercenari Ok Vi spacchiamo Roma Stessa roba Guidi il gruppo Ma non li segue Stessa roba Wow Ah, però Non ho perso La mia bilina No, veramente Non ci gioco da mesi a sto gioco Sto Sto tirando cazzotti a caso Aspetta Se non sbaglio Oh Cosa mi piace No, no, no Voglio provare una forte No, no Questa Il martello Il martello Il martello No, spe Il martello Eh, madonna Ah, spacca per terra Oh, finalmente Volevo fare il martello di ghiaccio Mi piaceva troppo Era un 2 Ah, niente Era un 2 fight Ai Com'è che mi ha fatto la presa da Ora diventiamo Ah, ah Ti prendo per il culo Troppo divertente Allora, il bello Che l'ho Per pre Di nuovo No, mi ha trollato Il bello è che L'ha congelata Dopo l'ha scongelata Per ricongelarla E tiragli un pugno Wow Eh Eh È scalato molto in fretta Si sarebbe Il escalate Il quickly Ma Non trovo una frase adatta In italiano Ma Tiragli un Quasi Eh, volevo fare qualcosa di epico Ma non mi veniva niente Quindi l'ho tirato Un semplicissimo calcio Fine Semile a tua madre Di quanto pensi Oh Ah no Pessoa pose tipo Info Quando leggi la parola tua Le due parole tua madre Di solito è un'offesa Ma stavolta no Ma no Che trollata è Pfff In vero che sicuramente Sono tipo Aspetta Mi colpisce le spalle Ma non devo farmi vedere Che mi colpisce le spalle Pam La prende le spalle Ovviamente Cioè Su questo qui Non c'è dubbio Dubiterei Che ti abbia insegnato Proprio in realtà Che c'è quello La C'è Giusto Si Quello con le katane Con la Con la Con la katana magica Ha clicato anche un nome Perché Boh Così Piano Eh che cavolo L'ho detto piano Come si fa Cos'era Una spada laser Quella F E sono io Il protagonista Non tu Di questo Capito Ah giusto Scarica Avete visto Che ha preso Le spalle laser Adesso No Adesso la ritira Adesso la ritira No Non la ritira No Che aveva tirato Una spada per terra E dopo la ritira Per Ecco Avete visto Che dopo La ritira Da dietro Per farti Da dietro Sto saltellando In giro Perché saltellare È simbolo di pro gaming Quindi saltelliamo In giro No Fagli qualcosa Di epico Ho detto Qualcosa Di Beh Un carto Giù Non so Non mi vengono Le mosse Cerco di mentarle Cerco di mentare Cerchio No No neanche Ah questa Giù No neanche Questa Le cerchi E cos'era Che in sciro Mi ha tirato 60 pugni In un secondo Questa non la scrivi Però eh Congelato E ora ti No Ma perché non fai Il martello Che bello Bello Il martello Che bello No No Com'era Doia No Com'era 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 Non mi viene più In area Che fa il martello Ok ok Adesso facciamo sul serio Sul serio Tu sei Infatti Quando dico sul serio Devi farti menare Esatto No i montanti Gli hanno fatti Troppo più Devono sistemare Sta roba Ma non lo faranno Sennò perdono Il 90% Dei giocatori Ok Questo qui è andato Quanti Quanti ne mancano E infatti Non è C'è colui Ti manca una katana Devi dare il nome La katana Ma sa cosa fa Tipo Ma gli affronta Tutti in coda Tipo Via Un prossimo Dove Un etto e mezzo Di schiaffi Di schiaffi Conditi con rabbia Lascio Stessa cosa Se Non mi ricordate Il padre E quello là Nero Con le braccia metalliche Che uso sempre Per fare il culo A mister L Adesso Se avete capito Chi è No niente E questa vai presa Però Bravo Stavolta hai fatto Il martello Il martello ghiacciato Polareti Avevamo fatto Nel episodio Dove parlavamo Di polareti Per tutto L'episodio Di portal combat Cosa Quella Non l'ho mai Vista In tutto il gioco Che Ha sparato Tipo Si vede Che in difficoltà Ha richiamato Qualcosa Ha sparato Il missile in aria Dai Faccio Ho detto Faccio sempre Le stesse mosse Perché non mi vengono Le altre Siamo Creomante La versione OP Beh OP un cavolo Questa Questa Non me la ricordavo Aspetta Non me la ricordo Più Aspetta 1 2 E quadra Oh quadra Il tirangolo Era il pugno Pugno gattivo Mannaggia No No Oh Tira Tira il pugno Per terra Via Ho detto Tira il pugno Bravo Ora Ora presa Tiri congello Dopo ti scongello No C'è il tizio C'è la statua del tizio Che ancora La fiamma in mano Io ti tiro la fiamma No Si spinta la fiamma E mo Ehi Classico Montante Che risolve Le fame nel mondo Beh non può Ma Quasi Come fa se a capire Che uno specialista Ma perché Ma perché Ma vuoi specialista Non so I specialisti Non sono quelli di Black Ops Vabbè Qui se le sta facendo Dare Dai Per pietà Guarda Guarda Vabbè Guarda Che anche Che anche Le braccia metalliche Iper Iperpotenziate Quindi Anche Una katana Classica Non ti spacca il braccio Eh Stero Eh Vuole Qua ci sta Qua ci stava Ma bello che c'è anche Ah L'ultimo Non l'avevo ancora fatto lui O si Una finta ovvio Lo guardi Ci pensi ma Me lo colpisco Si o no Ok lo colpisco E qua E ormai che ci arrivi È ovvio che ci si è svegliato Un po' più scarsetto Degli altri Questo vero Forse perché stavolta Sto facendo sul serio Non so Sto ripetendo le mosse Che l'unica che ho imparato E non ditemi che l'impara a memoria Perché Non ci gioco dallo stesso Lui l'impara a memoria Ecco qui I bot Aia Volevo fargli un montante Con la spada di ghiaccio Polareta Trattino Polareta Trattino Ti spacco Basta Basta Devo vincere io Ricordalo Devo vincere io Avete visto quanta vita Mi ha tolto Con una combo sopra Metà l'ho lasciato fare Ma più che altro Perché Dai Lasciamoglielo No il martello Per Il martello No perché il cartone Il martello per terra È troppo figo Gli fa danni all'equilibrio Ecco così Un altro Un E se ne ha E un altro E se se Alla fine ha detto Basta Basta Si se ne ha corto dopo Wow E ora E ora Ovvio Violenza genera violenta E sei tu che hai cominciato a scazzottare È lui che ha mandato gli uomini a scazzottare Il gruppo di quelli che sto testando Ma su serio Ti stai facendo congelare come Eh Vabbè dai All'ultimo dovevo fargli una mossa speciale Se no Se no Cosa l'hanno messo a fare Come decorazione E qualcuno dovrà pure pestare no Beh Non lo conosci bene Io lo conosco fin troppo bene E ti assicuro che si addice perfettamente Ok Ora tutti e quattro Scommetto che Prende una katana E fa E fa un domino con le teste Scommetto Hai un nuovo piano Perché non hanno il piano Vediamo cosa dice ora Sì 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 Quando il carisma a livello 10 Poi Hai l'equipaggiamento che gli ha più carisma Fallout Dai Deci accennare Ok Più dieci tappi Si manca solo Ah Ah Recomandato E questo capitolo E' stata una trollata Io ho fatto un capitolo Che è stata una trollata Siamo stati trollati Io chiudo tutto Vabbè Ora Scommetto che si diranno Quasi Quasi Poi dai Andare sui monti Ghiacciati E prenderli Da 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 dei tizi armati di katana Sì Decisamente Vincitori Vincitori Ma che cazzo Ma in serie Quando mi ha combattuto Dimmi te Siete tutti vincitori Hai guardato Hanno preso Hanno preso Sberra In 5 Hanno preso sberra Da uno che aveva solo due mani Beh Due mani Di ghiaccio Che magari Si può moltiplicare Che ne so io Capito Se lo vuoi La criomanzia Nuova Darksus 4 La criomanzia Arte di ghiaccio E ora Mi sono perso il filmato Di che stavano parlando Un aereo Ma chi Il portale Si è aperto qualche ora fa Allora Mi sembra Portal Portal Zell No Da dove porta il portale Dove porta il portale Ti posso smetterla Quei giochi di parole Non stai Sono dall'altra parte Ah scusa Che battuta di merda E ora Riunione segreta Della setta Di retigliani Quasi Quasi Però c'è anche l'esercito Stavolta Americano Scommetto Complottisti Tu nella tua squadra no Perché E come dire E come dire E facciamo Domani facciamo Una guerra Però l'aeronautica no Perché mi sta sui coglioni Stessa identica cosa La guerra La guerra La guerra Non cambia mai Città Fallout Ci vorrebbe solo Salveni A casa loro Quelli del regno esterno Vengono qui a rubare I nostri Emblemi I nostri combattimenti Ma da quanto ho capito Una guerra tra nazioni Si giudica Da un combattimento A pugni Idea figa Però Come dire Io ho Il 90% del mondo Tu hai 10% Però Però tu vinci a pugni Contro di me Quindi tu ti prendi L'altro 90% O almeno Credo Che funzioni così Il talismano Padoin Amuleto di Shinnok Vi ricordate i vecchi I vecchi capitoli Primo Il vecchio faccia di pesce O almeno così L'ha chiamato Johnny Si Non ho ascoltato Puoi fare il mio rassunto Tutti che guardano Mi sa che mi hanno sentito Puoi fare il mio rassunto Tutti Tutti Mutti Eh No Era un pirva Ah ok Allora non lo sono Stato io Bredo di ros Che cavolo In che senso Sei un vampiro Lo sapevo Da sempre Che non po' Profughi No Ti aveva Presetto di no Perché dopo Perché dopo Non sarete qui Mh Mh Mi confermi Mi confermi A cercare di me Già Già le stava prendendo Da una singola Che aveva un talismani Ma Ah già talismani Ecco perché No Capitolo 4 Capitolo 4 vuol dire Prossimo episodio Prossimo episodio Vuol dire Ciao a tutti Che saluto di merda Sul serio Comunque spero che vi sia Piaciuto il video E spero che seguiate anche i prossimi capitoli Ciao a tutti